Turismo, la crisi nera del settore, i ristori, i fallimenti di imprese, le speranze per la prossima stagione, mentre la pandemia non dà tregua, i vaccini, i passaporti sanitari e piani di rilancio che ancora non si vedono, determinando incertezze, mentre i flussi stranieri sembrano scegliere altre mete internazionali più organizzate. A Zoom, quando a contare sono solo i fatti, approfondiamo il tema con esperti e servizi dedicati. Vi aspettiamo alle 21, in diretta, canale 186 del Digitale Terrestre e online sulle nostre pagine social.